buongiorno francesca mencaccia la nazionale senti mister ti chiedevo voglio sapere quali possono essere secondo te le difficoltà che può incontrare il perugia domani e se sulla carta questo può essere definito forse il turno di una potenziale di una possibile svolta vista anche gli impegni della cia no visti anche visibli impegni delle altre squadre grazie ma continuo a dirvelo le altre squadre a me non interessano non possiamo pensare le altre squadre dobbiamo pensare a quello dobbiamo fare noi le difficoltà sono tantissime domani tantissime perché chi gioca contro il perugia da sempre qualcosa in più perché giocare contro il perugia contro una squadra che ha una storia importante anche quindi le motivazioni e gli stimoli sono in tutte le squadre sono gli stimoli molto molto alte quindi questa è la prima difficoltà la seconda difficoltà perché di fronte troveremo una squadra che sta lottando per mantenere la categoria e quindi farà di tutto per giocare in casa farà di tutto per portare appunto a casa i tre punti che per loro sono importanti per noi sono importanti quindi le difficoltà sono sono elevate perché poi quando entri nel rettangolo di gioco la classifica non conta niente perché i valori in questa fase soprattutto il campionato sono i valori si azzerano perché poi quello che sei che riesci a fare durante l'arco dei 90 minuti è la cosa più importante non è importante la classifica non è importante niente domani è importante lottare e dal primo all'ultimo perché sarà una gara difficilissima molto difficile quindi noi la dobbiamo preparare bene perché per noi significa tanto per loro significa tanto e quindi chi sarà più bravo domani e che riescerà a sfruttare gli episodi porterà a casa una una vittoria importante quindi noi dobbiamo ragionare da questo punto di vista dobbiamo ragionare da una squadra forte ma allo stesso tempo una squadra umile che deve andare a Ravenna non guardare niente e pensare a quello dobbiamo fare nell'arco dei 90 minuti Corrado lo sito del messaggero buongiorno mister io la mia domanda è questa ok d'accordo le problematiche tecniche pertanto ormai tutte le partite saranno difficili è una domanda però dopo la partita al di là di come finirà te la guarderai te le guarderai le altre partite il giorno dopo e quello seguente oppure no quello che ti guarderai su Tirol padova eccetera oppure no dopo cambierà ben poco se la guardano il risultato non dipenderà sicuramente se la guardano io mi interessa guarda dipende tanto cosa facciamo noi quello che fa la mia squadra mi interessa molto di più perché noi dobbiamo abbiamo la voia la determinazione di andare a fare la nostra gara e cercare di portare a casa i tre punti poi ripeto sicuramente il futuro e la squadra che vincerà questo campionato purtroppo non dipende solo dal nostro risultato non siamo primi quindi non il nostro futuro dipende anche dal risultato degli altri però tanto dipende da quello che facciamo noi perché poi gli altri possono vincere o perdere ma se tu non gli dai pressione con la vittoria serve a ben poco mi auguro innanzitutto di essere contento a fine partita del risultato della mia squadra poi se avrò tempo vedrò anche le altre ma non mi piace vedere le altre mi piace pensare poi alla partita che devo affrontare la partita successiva un paio di domande una un check sulle condizioni di burrai che insomma ieri non non si è denato e poi insisti molto dall'inizio del campionato su quanto sia importante non venire mai meno dal punto di vista dell'approccio mentale dell'atteggiamento della concentrazione della determinazione ma domani è anche una classica partita in cui le qualità individuali e qualità tecniche del pelugia potranno fare ancora di più la differenza grazie non dipende solo della partita domani tutto il campionato che continua a dire che secondo me gli stimoli le motivazioni l'approccio mentale l'approccio alla partita sono delle cose fondamentali poi valori tecnici arrivano di conseguenza se non se non metti prima di tutto in campo questi valori farà fatica a vincere soprattutto in queste categorie dove conta tanto l'aspetto motivazionale l'aspetto perché poi dal punto di vista tecnico tattico i valori sono bene o male sono sono uguali poi ci sarà la squadra che magari utilizza più giovani meno giocatori di esperienza magari noi abbiamo qualche giocatore esperienza in più rispetto a qualche altra squadra con qualità magari sicuramente rispetto a qualche altra squadra superiore però tanto conta poi quello che metti sul campo sul rettangolo di gioco questa è la cosa fondamentale la squadra la mia squadra ha fatto a mio avviso bene molto bene in alcune partite meno bene in altre però altre partite dalla fine credo che anche i ragazzi ma sono convinto di questo i ragazzi non ci possiamo permettere di sbagliare dal punto di vista dell'approccio le partite soprattutto a tre partite alla fine soprattutto sapendo l'importanza e c'è la tensione c'è la voglia la determinazione però dobbiamo sempre pensare che una partita dobbiamo stare sereni fare le cose che sappiamo fare al di là dell'avversario sapendo che la posta in pala è alta però noi dobbiamo fare il nostro percorso continuare a farlo non non mollare mai come come ha fatto la squadra con la triestina dove sembrava tutto tutto finito però i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine sono stati premiati meritatamente perché al di là poi di quello che dice ognuno perché voi il calcio è bello perché viene ognuno l'avete a modo proprio le giocate le belle partite le belle giocate e poi senti perché non gioca questo perché non gioca quest'altra fine partita è tutto facile poi soprattutto seduti e al di fuori del rettangolo di gioco dove ci stanno motivazioni dove ci stanno sensazioni dove ci sta l'adrenalina fine partita tutto facile tutto tutto più facile perché non gioca uno perché non gioca un altro io penso che soprattutto in questo momento conta ben poco chi gioca ma conta il risultato finale della squadra poi tutto il resto poi ho sempre detto che tutto alla fine i giudizi e le valutazioni si fanno sempre alla fine e io mi limito a lavorare mi limito a fare quello insieme ai ragazzi quello che stiamo facendo sapendo che non è facile però noi ci mettiamo il massimo impegno e quindi questa è la cosa più importante per quanto riguarda Burrai Burrai ha avuto un fastidio al piede non un fastidio muscolare per come ho letto ma non è un problema muscolare un problema ad un piede al piede perché ha avuto ha preso un colpo sul piede ieri ho deciso di non farlo allenare oggi valuteremo come sta ma credo per domani sarà a disposizione me lo auguro però niente di particolare gli altri infortunati sappiamo quali sono c'è ancora sgarbi e angela fuori forniti per per via dell'espulsione poi chi c'è altro nessun altro fino ad oggi nessun altro fortunatamente moscati c'è un problema no ha avuto un problemino che una vecchia cicatrice ha avuto un piccolo risentimento nella stessa zona e quindi non sarà a disposizione per domani infatti io proprio a proposito di chiesto tu hai spesso hai detto hai rimarcato l'importanza di questo giocatore che dà molto da molti equilibri al centrocampo volevo sapere se se ti è dispiaciuto perderlo magari in un periodo così importante del campionato magari sperando che riesca a ritornare per la fine insomma moscato è un giocatore che è importante per la categoria il suo passato ma anche il presente palla chiaro è un giocatore importante è un giocatore che con noi nella nostra squadra da molto equilibrio può giocare in più ruoli è sicuramente una perdita importante per noi è un ragazzo che si è sempre allenato al massimo ha da sempre sposato la causa è sempre sempre presente sia se gioca dall'inizio sia partite in corsa da sempre un contributo importante per questa squadra dispiace perché in questo momento è un giocatore utile un giocatore importante purtroppo però in questa per domani non ci sarà mi auguro già dalla prossima ad averlo già a disposizione mister buongiorno andrea franceschi in umbleradio pensavo che sicuramente da grande soddisfazione avere dei giocatori che entrano come sono entrati nella partita con la triestina e cambiano le sorti della gara e alzano anche il livello agonistico insomma dando quel di più che è servito alla squadra per ribaltare il risultato però adesso questi giocatori mi riferisco a murano minesso bianchimano reclamano tra virgolette un posto anche se lei ha sempre detto che non contano solamente gli undici ma anche chi in questo calcio con cinque sostituzioni anche chi va in panchina la mettono un po in difficoltà insomma avere questi tutti questi giocatori anche che hanno che hanno uno score di gol abbastanza importante perché murano undici minesso sette bianchimano sei comunque per la categoria sono giocatori evidentemente importanti ma io queste cose non capisco ma faccio proprio fatica a capirle perché se gioca melchiorri e perché non gioca murano gioca murano e perché non gioca melchiorri gioca minesso perché non gioca elia perché non gioca falserano ma guardate che si gioca sempre in undici e uno fa delle valutazioni a differenza di quello che voi pensate io devo io penso la formazione iniziale soprattutto chi secondo me può dare qualcosa in quella determinata partita subentrando perché non vi dimenticate che settimana scorsa la partita è finita 3 a 0 dove ha fatto gol melchiorri e quindi la sfiderei chiunque di voi una squadra che vince 3 a 0 fuori casa se non ci stanno problemi fisici cambiare qualche elemento solo perché bisogna cambiare è la cosa che mi rende proprio mi viene proprio difficile capirle questa perché voi si trova sempre un qualcosa che non va invece di apprezzare i giocatori che sono subentrati e che hanno hanno dato una svolta sia in termini di gol sia in termini di prestazione bisogna andare a vedere sempre il lato negativo quando giochi a perugine una squadra importante devi fare delle scelte le scelte variano in base alla caratteristica dell'avversario in base al momento in base alla situazione in base a tante cose ma soprattutto chi sta in panchina per me non è un panchinaro che non ha e non è preso in considerazione per me è un titolare e quando subentrano e danno il contributo che hanno dato ma non solo in termini di gol ma in generale per me è una soddisfazione perché evidentemente si sentono importanti il non reclama nessuno un posto da titolare perché ho la fortuna di avere dei giocatori che accettano tutto anche se a volte è normale che si incazzano pure se non giocano ma sempre positivi se gioca uno non può giocare l'altro si gioca in dice quindi faccio delle scelte è toccata melchiorri in altre circostanze è toccata murano e vi siete lamentate perché non gioca melchiorri e ha giocato bianchimano e perché gioca bianchimano e non gioca murano o vano o minesso col senno di poi è tutto facile e non è così non è così perché faccio delle valutazioni e no perché le ho sentite le ho sentite continuo sempre a sentire sempre qualcosa che non va perché gioca uno perché gioca l'altro purtroppo giocano in uno la domanda era riferita al fatto che mettendosi proprio nei suoi panni rispetto ad altri momenti della stagione nel quale le scelte sono state obbligate in alcune situazioni adesso c'è ampia scelta quindi qual è il criterio è quello appunto dell'avversario o della della situazione tattica o del appunto del fatto che magari qualcuno di questi ha delle caratteristiche che gli permette di essere magari più più incisivo entrando nella panchina piuttosto era e le valutazioni le faccio in base a questo in base a tante e a tante situazioni avversario momento il giocatore per chi vedo meglio in settimana per chi penso che mi possa dare un qualcosa in più se subentra dalla dalla panchina e non dall'inizio per chi magari in alcune partite due giocatori insieme non possono giocare per il mio modo di vedere può magari sicuramente sbagliato per voi per me è così e in difesa ho avuto qualche difficoltà a livello numerico e quindi ho deciso di cambiare sistema di gioco perché permettere a proprio agi giocatori e giocando a tre e quindi sono delle valutazioni non solo che riguardano il reparto avanzato ma riguarda riguarda tutto il reparto tutte tutti i reparti ho deciso a verona di fare giocare qua un po più avanzato per dare fastidio tra le linee non utilizzare un attaccante in più perché pensavo che potevamo fare fatica con due attaccanti pure quindi ho preferito un attaccante con più due tre quartisti murano è entrato entrato benissimo melchiorre ha fatto gol e ha fatto benissimo la considerazione che se vinci 3 a 0 fuori casa e non ci sono problemi fisici durante la settimana non vede il motivo perché devo cambiare quando ho trovo perché poi io ve la faccio al contrario togli melchiorre gioca murano fa male murano subente melchiorre si parlava sapete di cosa perché ha cambiato melchiorre e non ha fatto giocare melchiorre che aveva fatto gol è una grande partita contro la virtus verona ha fatto giocare murano io la bacchetta magica sinceramente non ce l'ho però sono convinto di quello sì al di là di quello che si dica fuori la squadra abbia recepito questi concetti queste sue infatti io sono sereno perché la squadra è molto serena capisce sa come come ragiono sa che per me sono tutti giocatori importanti chi gioca chi subentra io prima di ogni partita continuo sempre a dire una cosa sui titolari non voglio neanche parlare sui titolari io punto sempre l'attenzione su chi sta in panchina perché per me dalla mia piccola esperienza e da quello che ho vissuto anche da calciatore chi subentra spesso se non sempre ma spesso è decisivo per tante età perché fisicamente sta meglio rispetto a uno che esce a più lucidità a più forza magari fisico quel momento perché chi è uscito ha dato tanto e quindi sarà più lucido sia gli attaccanti ma anche centrocampisti e quindi per me io l'attenzione la sposto durante la partita prima della partita sempre su chi sta in panchina e si deve fare trovare sempre pronto deve mettere l'allenatore in difficoltà magari ogni in partita mi trovo di fronte a queste scelte a questa difficoltà sono l'uomo più felice del mondo avere delle problematiche del genere soprattutto quando dall'altra parte un gruppo di ragazzi eccezionale che accettano tutto positivamente posso mister scusa francesca mi cacci negro può giocare dall'inizio è arrivata la condizione tale da poter giocare dal inizio e se questo ti può dare la possibilità di tornare a giocare a quattro grazie negro sta meglio nessuno entrato ha fatto molto bene non era facile ha fatto una settimana importante una settimana buona sta bene fortunatamente dal punto di vista fisico della tenuta riguarda la tenuta non so se hai 90 minuti però poi valuterò domani anche con negro posso decidere di giocare con la difesa 3 per dare magari anche un po più di tra virgolette tranquillità lasciarlo un più un po più tranquillo per quanto riguarda la copertura della profondità se c'è il centrale lui magari facendo un altro tipo di ruolo potrebbe essere un po più libero da questo punto di vista o poter giocare a due come ha sempre fatto dipende sempre tanto dalla dalla tenuta valuterò domani e se farlo giocare dall'inizio se giocare in un modo in un altro sia con lui che senza di lui magari siamo un po più tra virgolette obbligati a giocare a tre con lui posso giocare sia tre ma anche a due se non c'è non riesce a tenere 90 minuti cose che valuterò ripeto domani siamo obbligati anche a livello numerico a giocare a tre